A me ha colpito molto la visione a Venezia del film, cioè quando l'ho visto per la prima volta sullo schermo grande, insomma, e devo dire che la cosa che mi ha colpito di più è la chimica che viene fuori da questi due personaggi e devo essere completamente sincero, non è un elemento sul quale abbiamo concentrato tutta la nostra attenzione durante la preparazione e abbiamo avuto una preparazione molto lunga del film, però quella chimica lì viene fuori proprio dai personaggi, da un'idea di personaggio che è molto vicina a quella, è molto vicina al reale, cioè che cos'è che fa ridere? Noi non pensavamo che questo film potesse far ridere, in realtà far ridere, anche non raccontando lo stereotipo del rapporto tra testimone di Geova e ragazzo del mondo, in realtà i dialoghi, quello che viene fuori dai dialoghi è esattamente la reazione che ognuno di noi potrebbe avere a delle dichiarazioni anche assurde se vogliamo che vengono fuori nel film, ecco il rapporto tra Giulia e Libero si sviluppa proprio attorno a questi piccoli cortocircuiti e da questi cortocircuiti nasce una relazione sincera. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!